siamo nel lontano 1988 in una calabria oppressa dalla malavita ma con un tessuto sociale che seppur subisce pure sano e vitale vuole uscire dall'oscurità adesso appartiene la 19enne roberta lansino che vive con la famiglia papà bancario a rende provincia di cosenza è un'universitaria di belle speranze il 26 luglio si va in vacanza al mare nella villetta san lucido roberta si avvierà sul motorino si piaggio in modo che il fratello possa ritrovarselo a disposizione direttamente sul posto e utilizzarlo a sua volta mamma matilde e papà franco la seguiranno in auto il gruppetto intende percorrere una strada che scavalla le colline anziché la statale pericolosa per un motociclo come matilde racconterà straziata dal rammarico e i sensi di colpa lei il marito invece di tallonare la figlia si attardano in acquisti dal fruttivendolo e ad approvvigionarsi di acqua una fonte perdendo di vista lo scooter quando una volta arrivati due constatano che la ragazza non è lì e non li raggiunge partono le ricerche nel cuore della notte prima viene ritrovato il sì integro non in avaria ma nascosto in una scarpata a breve tra la vegetazione si scorgerà anche il corpo della giovinetta spogliata dalla vita in giù ha subito uno stupro ed è stato ucciso a fendenti un'ecchimosi sullo zigomo e ficcate in gola due spalline intrise di sangue a quel punto franco presidia il piccolo slargo che immette nel dirupo finché i rilievi saranno conclusi si suppone che roberta si sia persa circostanza ritenuta probabile su quella stradicciola tutta curve e deviazioni infatti c'è chi si ricorda di lei mentre vaga chiedendo lumi sul tragitto già verso torremezzo oltre il bivio che avrebbe dovuto imboccare e qualcuno dirà di aver notato una fiat 131 che pareva tallonarla auto che verrà poi ritrovata in abbandono e legata ad uno dei sospettati successivi sotto lente finiscono tre uomini imparentati giuseppe frangella che dichiara di aver parlato brevemente con roberta in cerca della strada e i fratelli suoi cugini luigi e rosario frangella il primo perché accenna particolari che non dovrebbe conoscere e giustificherà la gaff asserendo di aver dato una mano a tirar su il ciclomotore ma papà franco immobile per ora in loco dal rinvenimento del mezzo e di sua figlia lo mentirà luigi e rosario in quanto messi a mezzo da giuseppe il quale forse per scrollarsi di dosso le prevedibili accuse li descriverà mentre si rincorrono nei pressi della scena del crimine mentre il primo urla al secondo che soffriva di un disagio psichico che cosa hai fatto si aprirà un processo al terzetto dopo questa tarantella di accuse tutto terminerà con una soluzione il caso è stato riaperto negli anni con maggiore o minore intensità secondo l'inquirente in carica nel 2007 le rivelazioni del pentito franco pino porteranno a luigi carbone e franco sansone i sansone avrebbero poi fatto sparire carbone che stava per votare il sacco siamo sulla strada buona chissà intanto gli anni passano e arriviamo ad articoli di questo tipo le ferite rinvenute al volto e al cuoio capelluto della giovane furono ritenute compatibili con la lama del coltello ritrovato a pochi metri dalla salma la gente ieri ha raccontato che il coltello fu acquistato a stradella di pavia unico punto vendita dove all'epoca era acquistabile in italia la marca wilson lì prodotta in quella frazione risiede il fratello dei frangella aldo i 20 gis dei frangella sequestrati alla fine degli anni 80 sono nelle disponibilità del ris e pare presentino diverse macchie di sangue mai periziate macchie che potrebbero far ribaltare le posizioni nel processo che riprenderà il 5 novembre prossimo tratto da qui cosenza 23 ottobre 2014 ecco un altro lungo stralcio l'omicidio della studentessa diciannovene roberta lanzino avvenuto sulla vecchia strada di falconara per quanto sia stato territorialmente di competenza della procura di pala e a tutti gli effetti un omicidio cosentino di conseguenza ricade sotto la diretta responsabilità di quei magistrati corrotti del porto delle nebbie il tribunale di cosenza per chi è nuovo che non fecero nulla per arrivare alla verità neanche dopo aver ricevuto un esposto anonimo con i nomi degli assassini l'unico atto frutto della mente perversa e diabolica dell'attuale procuratore mario spagnolos alias il gatto pardo allora 34 anni sostituto procuratore è stato quello di coinvolgere in questa vicenda la sua creatura ovvero il pentito francopino che ormai da più di un decennio prende in giro tutti raccontando versioni allucinanti sull'omicidio di roberta che sono state progressivamente e miseramente smontate pezzo per pezzo tratto da jacchite blog 26 luglio 2020 l'esposizione molto più lunga si suggerisce l'ipotesi di crimini orditi ai piani alti scaricati poi sul groppone di poveri disgraziati di campagna con l'aiuto di perfidi sedicenti pentiti lasciamo questa cattelinaria alla responsabilità di chi la redatta notando che più oltre in essa si fa il nome di un valente magistrato eugenio facciolla che si occupava anche delle indagini sull'omicidio del calciatore del cosenza denis bergamini poi trasferito ad altri in carico i filmati attuali ci mostrano luoghi molto cambiati ci pare che in pieno giorno in pieno sole un simile massacro avrebbe dovuto essere notato più che dalla strada da basso perché il costone è esposto e sotto c'è una spiaggia roberto avrà urlato gli assassini si saranno pur stravolti oppure tutto si è svolto in un casolare poi il corpo è stato scaricato in quel recesso per farlo trovare ma chi poteva immaginare di beccare una ragazza sola e rimasta senza protezione per un errore di marcia fu dunque una casualità favorevole agli assassini chi avrebbe rischiato di trascinarla lei con tutto il motorino quando i piani prevedevano che i genitori sbuccassero da una curva da un momento all'altro e anche altre automobili naturalmente perché un po di passaggio è stato dimostrato oppure si tratta di predatori momentanei sempre in cerca di esperienze di mattanze oppure di esecutori di ordini dall'alto procuratori di fanciulle per turpi sollazzi forse la giovane aveva visto qualcosa che non doveva come si suppone sempre o si supponeva in quelle zone matilde franco hanno creato la fondazione roberta lanzino di cui si trovano notizie in rete e c'è una via all'intitolata alla mezziaterne lo stesso posto dovendo incontro a un orribile fine la cantante graziella franchini in arte lolita nel 1986 su cui ho fatto un video vedete quanti casi ci sarebbero ancora da trattare scusate è scivolata la telecamera ma tanto ormai mi conoscete ciao